Cosa andiamo a fare adesso, Vale? Slitta! La slitta dei cani? Sì! Ma ci sono due valentini! Oh mio Dio! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! E dopo aver mangiato abbondantemente allo chalet gerard, andiamo finalmente con le slitte coi cani! Cani! Ok, siamo arrivati! Vale si è appena svegliato! Hai visto che bellino questo cuccioletto? Ciao! Fatto! Questa, così è! Vai! Vai! I cani non sono un po' piccoli, nei film di solito sono un po' più grandi! Sì, nei film! Per sapere quali sono i cani da slitta, quelli che te non diresti che sono cani da slitta! Cani da slitta per eccellenza è la Laskanasky, la Laskanasky è un bastardino, non ha il pelo, piccoli, brutti e neri! Signorina anoressica laggiù in fondo, capito? Che te la vedi così tutta smagrina, no? In realtà è un tuono! Come si guida la slitta? Stiamo in piedi su di sci, ginocchia leggermente piegate, schiena dritta! Cosa più importante di tutte è sempre le mani sulla slitta! Vai di qua, sto girando a destra, di qua sto girando a sinistra! Abbiamo due freni, freno freno e il tappeto, questo è il freno che usiamo per fermarci, ci stiamo con i piedi sopra quando siamo fermi, questo è quello che usiamo per modulare la velocità, con un piede e rallentate, con tutte e due e vi fermate, oppure se io uso il tallone destro rallento e giro a destra, se io uso il tallone sinistro rallento e giro a sinistra! Quando vogliamo partire noi diciamo, ready guys, perché i cani si preparano, ok, sull'ok partono, come funziona? Ready guys, ok e partiamo! La sboroni è, ready guys, ok, perché in quel modo lì aiutiamo i cani! Aiuti i cani, non gli dai... A parte che lui oggi ha una voglia che... No, io gli dico, corri e lo tengo fermo, lui fa che cosa corro? Corri e gli do una mano, non c'è più caso che correre, no? Quando andiamo in salita, cambiamo i piedi e spingiamo all'esterno! Questa non è la carrozza dei cavalli, è più come andare a cavallo, cioè se noi andiamo a cavallo e sul cavallo stiamo fermi, il cavallo si gira e fa tocca e mi dai una mano, se no io da qui non mi muovo, se ve la sentite sul tappeto si va più forte In questo caso qui come freniamo? No, è un cassino! Come la bicicletta si sta frenando! È un cassino, ok, sì! Come si cade da una slitta? Davanti non cadiamo, dietro se cadete indietro lo meritate, potete cadere sui lati Se voi riuscite anche solo a tenere una mano, quando siete qua la slitta si ferma! Succede spesso? Ma con voi penso di no, però Ok, grazie! Settini i miei occhiali, potrebbe essere un problema Ciao, patati, io sono un vostro amico! Ciao! Ma hai due occhi diversi tu! Ecco, bacio! Sei pronto, Vale? Al ritorno vedi il tramonto, eh? È spettacolare! Ciao, Paolo! Sei pronto che partiamo? Adesso andiamo con i cani che è bellissimo! Ma sì, dai! Li hai conosciuti? Sono simpatici questi cani? No! Come no? Se noi impariamo poi lo fa anche il migno! Sicuri sono quattro cani? Per me sono 85 kg, io ve lo dico! Questa è la mia muta di cani Ho anche Balto, che è là davanti Non è cane, non è lupo Sa soltanto quello che non è E adesso dobbiamo portare i medicinali A una piccola bambina Che sta morendo nel paesello Nel freddo nord Ready? Ok! È bellissimo! Ma ciao, patatino! Hai visto che belli i cani? Siamo velocissimi! Faccio le mie, ecco me c***o Ah no, perché quello ti riparte A volte Braviiii Come mai i tuoi cani stanno cazzeggiando Paolo Ma questi sono fenomenali c***o Guardate come sono precisi Fermo, fermo, fermi ragazzi Come hai fatto a mettersi di là Si scende! Mamma che piccata Vai, vai, vai Vai, vai, vai So, c'è un'extra bambina è una fiscata ma guarda il tramonto che bello è come è andata a momenti alterni è stato bello quando siamo andati forte era lì che sarideva e come è stato ma veloce iscriviti al canale iscriviti al canale